Mezzo chilo di marijuana, pronta ad essere suddivisa in dose smarciata nel mercato, è stata sequestrata a due algerini irregolari sul territorio nazionale e il bilancio di un'operazione antidroga condotta la scorsa notte dalla polizia del locale commissariato e dalla squadra mobile di Ragusa con l'ausilio di unità cinofile proveniente da Palermo. L'episodio è incontrato al cerito, con il posto tenuto sotto controllo da giorni. Un cane, pastore tedesco guidato dal suo agente conduttore, ha infatti scovato sotto un filare di alberi, un sacchetto contenente alla marijuana. A poca distanza, anche un bilancino di precisione, mentre a due algerini, nel frattempo bloccati dagli agenti, è stata trovata addosso la somma di 840 euro, provento dell'attività a dispaccio. Si tratta di Sam Allai, di 25 anni, di Abdel Raffarak, di 28, entrambi già note alle forze dell'ordine, per un ordine di lasciare il territorio nazionale demesso dal questore di Cagliari. La quantità di stupefacente sequestrata, una volta immessa sul mercato, abbia fruttato oltre 5.000 euro. Grazie a tutti.